Qua sapete perché? Perché tu puoi non occuparti della politica, ma dovete essere certi che la politica si occupa di voi. Non c'è un modo di scappare da questo. Prima di iniziare a parlare io devo dire due cose. Primo, questo posto è un posto della mia anima, mio nonno è nato in quel palazzo là. Napoli è un pezzo della mia storia. È un posto dove ho lavorato, dove ho vissuto, dove ha radici la mia famiglia. È un posto che è stato il motore culturale dell'Europa e lo è stato per molti anni. E se c'è un fatto che è inaccettabile è l'idea che questo allontanamento del Sud dall'Europa sia in qualche misura inevitabile. L'Europa nasce del Sud, ha le sue radici culturali, filosofiche, storiche nel Sud. È complicato da spiegare? No, è indispensabile da spiegare. Io prima di iniziare questo intervento voglio ringraziare la persona che ha organizzato ogni cosa di questa campagna elettorale. Dalla prima all'ultima. È una persona che quando arriva a Napoli gli viene il sorriso. Quando se ne va da Napoli rompe le balle a me tutti i giorni insieme a Richetti e tutti gli altri. Perché è d'acciaio. Si chiama Francesca Scarpato e adesso sale sul palco insieme a me. Ah non c'è dubbio! Vai, sali! Adesso. È la grinta, è la passione, la dignità che mettiamo tutti i giorni insieme in quello che facciamo. e insieme a Francesca, a cui chiedo di tributare un grande applauso per il lavoro che ha fatto e a cui do anche un bacino, quello che vi voglio dire è questo. Non è il momento in cui ci si può accontentare, sapete? Non è il momento in cui possiamo dire che andiamo avanti così per un altro giro. Continuiamo a fare sempre la stessa cosa. e che in fondo la politica non serve a niente e ognuno di noi se la può cavare così com'è. Sapete perché non è il momento? Perché a 600 chilometri da qui, mille chilometri da qui, ci sono dei ragazzi che imbracciano il fucile per difendere la loro libertà e sapete che c'è? Che quei ragazzi sanno quanto vale essere europei. In Georgia sanno quanto vale essere europei e noi ci siamo scordati cosa vuol dire essere europei. perché lo abbiamo ereditato. Nessuno di noi ha combattuto per averlo. E il dovere di ogni persona in questa piazza è ergersi a difesa dello Stato di diritto, della democrazia liberale e della libertà. Oggi sono 80 anni dallo sbarco in Normandia. Nessuno di quei ragazzi americani voleva essere a Mama Beach, ve lo garantisco, non ce n'era uno. Nessuno dei ragazzi inglesi lo voleva fare. Ma l'hanno fatto. Perché si difendeva la libertà e non solo la loro, la nostra. L'hanno fatto perché sapevano che c'è una grandezza nella vita che deriva da quello che tu fai oltre la tua vita e che rimane oltre te. Diceva un grande inglese la prima e più importante virtù dell'uomo è il coraggio. Perché senza il coraggio non esiste nessun'altra virtù. Si chiamava Winston Churchill ed era un grande europeo. In questa campagna elettorale che è stata allo stesso tempo la più brutta e la più bella. La più brutta per quello che a me è toccato fare. Perché vedete andare nelle trasmissioni televisive mentre hai dentro gli occhi di quello che succede due guerre alle porte dell'Europa e dover rispondere se mi piace Fedez non è mica una cosa tanto normale pensare che tutto il dibattito italiano sia concentrato solo ed esclusivamente sulla attribuzione del fascismo, dei sinistri con la Presidente del Consiglio che pronuncia come tanto le parole non contano più niente. Puoi dire stronza il Papa può dire quello che ha detto e nell'uso delle parole c'è la fine dell'autorevolezza e della serietà dell'Occidente nell'uso distorto che facciamo delle parole. Non diamo più peso a nulla di quello che diciamo e tutto quello che diciamo è compresso nello spazio di un post su Instagram perché nulla è lungo nulla è profondo nulla è grande perché deve essere riassunto in una cosa molto piccola voi pensate che questa politica avrà spazio nel futuro io vi dico che non l'avrà sapete perché? Perché quando la storia torna non lascia spazio agli influencer perché non si tratta più di avvicendarsi al potere senza nulla far accadere si tratta di un tenere un paese sui binari di una storia che è diventata dura complicata tosta difficile non è un problema italiano a forza di dividersi e di chiamarsi fascisti e comunisti sapete cosa succede in America che i seguaci di Trump andano con le armi eseggi elettorali gli Stati Uniti da America e tutti i giorni avete in Italia qualcuno che vi dice siete nemici con l'italiano alla vostra destra con l'italiano alla vostra sinistra scordandosi di quello spirito repubblicano a cui noi ci richiamiamo e che è comune a tutti noi perché è la nostra casa ed è frutto di una sintesi di culture non è appannaggio della sinistra mi dispiace la strumentalizzazione della Costituzione come qualcosa che è della sinistra non è così De Gasperi un grande italiano alla conferenza di pace penalizzante per l'Italia diceva io sono qui e rappresento insieme la tradizione repubblicana di Mazzini le aspirazioni universalistiche dei lavoratori la forza del pensiero cristiano e li rappresentava insieme se noi non siamo insieme questo frangente della storia vedrà sbriciolarsi prima l'Europa e dopo l'Europa vedrà sbriciolarsi l'Italia non lo faranno scientificamente non ci sarà Salvini in mutande al papete che fa uscire l'Italia dall'euro non succederà così succederà che giorno dopo giorno si eroderà il progetto europeo perché non ne abbiamo cura abbiamo fatto tutta la campagna elettorale in piazza rispondendo alle domande la consapevolezza di cos'è l'Europa oggi e ai minimi storici vi spiegano che non ci aiuta sui migranti senza sapere che la commissione europea vuole ridistribuire i migranti da dieci anni e sono gli stati membri che non glielo fanno fare per prima la Meloni che vota contro c'è un caos che non investe nelle democrazie solamente la politica investe il giornalismo e i media nessun paese può resistere a quello che noi vediamo tutti i giorni all'andare in trasmissioni televisive dove non c'è un giornalista che si legge un dato un numero ieri ho chiesto a uno che magnificava il piano Mattei un giornalista di destra gli ho detto scusi ma mi sa dire quanti soldi Giorgia Meloni ha messo in più su quel piano Mattei rispetto a quelli di prima no non lo so ma che giornalista è uno che ti risponde ma come verifichi e la premier ieri è andata in Albania e vai in televisione e le trasmissioni di destra ti dicono almeno fa qualcosa voi lo sapete quanto costerà un migrante in Albania all'anno 44 mila euro ma noi sembra una cosa intelligente spendere 44 mila euro per dare il segno che 3 mila migranti su 160 mila sono stati spostati in Albania ma è una cosa che funziona allora se azione è nata è nata per riportare non la razionalità ma lo spirito repubblicano della serietà della politica che ha fatto questo paese questo paese è perché c'era De Gasperi non c'era un influencer se no noi non saremmo oggi quello che siamo allora io lo so come si prendono i voti lo sappiamo tutti come si prendono i voti in questo paese raccontando palle facendo l'influencer mettendosi i meloni qua e dicendo votate meloni secondo voi non lo so fare lo so fare chiunque qualunque imbecille ma qui il punto non è questo il punto è convincere gli italiani a votarti non facendo quello non raccontando palle essendo equanime per cui se è capace di dire un provvedimento è giusto in quanto tale io lo voto perché è giusto in quanto tale cercando sempre di proporre qualcosa e di ragionare all'opposizione come fossi al governo perché è tuo dovere farlo e signori praticando la rettitudine assoluta perché i riformatori devono essere retti altrimenti non sono credibili l'etica e la politica sono legati strettamente non ci può essere la politica senza etica perché l'etica è la ricerca del giusto e la politica è la capacità di trasferire il giusto dal pensiero all'azione questo è ciò che siamo noi noi andremo molto meglio del 4% levatevelo dalle balle non sarà quello il problema sarà avere la forza la resilienza ogni singolo giorno di non farsi prendere e perdere dalla politica di non far si tentare dalle scorciatoie che ti dicono ma si buttatevi tutti insieme ma dai quello vota la russa il primo giorno con te ma fai finta di niente perché tanto si fa finta di niente sarà il fatto di non cedere a dire facciamo la costola della destra o la costola della sinistra e non perché non sia più facile per me ma perché non serve a niente non serve a niente perché l'abbiamo già sperimentato tutto ciò che non funziona l'abbiamo già provato cosa vogliamo fare dopo i 5 stelle dopo Salvini dopo la Meloni chi vogliamo votare un asteroide ci sta chiedendo il signore che era in piazza vicino qua di votare come preferenza un uomo defunto neanche su Marte succede una cosa del genere capito? non esiste ma non esiste per rispetto agli elettori oltre che alla memoria della persona perché non si fa perché se hai la forza vai col tuo volto col volto dei tuoi candidati e racconti quello che vuoi fare ma dove finirà questa sticella che si abbassa sempre cosa dovremmo vedere quante trasmissioni io dovrò fare con Magliaro che mi spiega che il problema dell'Italia non è la Repubblica Sociale Italiana ma Stalin eh quanti ne dovremo fare quanti talk show ma hai ragione ma sai che c'è che sta lì perché ce lo invitano perché l'obiettivo di quella trasmissione non è spiegare cosa funziona o non funziona ma spiegare che ci sono i fascisti dappertutto e a forza di parlare di fascisti dappertutto finisce che tu li aiuti non li distruggi perché quelle persone in televisione non ci devono andare chiaro? qual è il limite? io sono stato definito da Orsini un cagnolino della Nato fa propaganda tutti i giorni per Putin qual è il limite? quando è che i media assumeranno su di loro la responsabilità di ciò che dicono e della qualità delle persone che invitano? quando è quando succederà ogni singola cosa di questa campagna elettorale è stata impeccabile è stato impeccabile il programma dove non cediamo a dire voglio il Green Deal col cuore rosso ora per cortesia c'è qualcuno in questa piazza che mi sa dire che cacchio vuol dire il Green Deal col cuore rosso oppure il PD il contenimento diplomatico della Russia ma che vuol dire il contenimento l'invio di sostegno all'Ucraina no dei armi di sostegno ma cosa gli invii? un boot ma di cosa stai parlando? e dall'altro lato nell'altro campo la Meloni io ho fatto vi confesso che il momento più straniante di questa campagna elettorale è stato un confronto che ho fatto con gli altri candidati e c'era Crosetto per la Meloni e io ho fatto il mio appello al voto alla fine Crosetto ha preso la parola ha detto non ho nulla da aggiungere ma come non hai nulla da aggiungere scusa o tu stai dicendo votazione o il grado di casino mentale che stiamo configurando nelle persone è gigantesco tu non vuoi l'esercito europeo tu non vuoi più poteri all'Europa ma che vuol dire più poteri all'Europa sapete che vuol dire? Biden una settimana fa ha messo i dazi su auto batterie e componenti cinesi perché vuole far crescere l'industria americana perché quei prodotti sono fatti con sovvenzioni dello Stato cinese lo può fare l'Europa? non lo può fare io ho la prova quando ero ministro provai a imporre dei dazi sui pannelli fotovoltaici era d'accordo la commissione e gli altri paesi sapete cosa ha fatto la Cina è andata dalla Germania e se l'è comprata è andata dalla Francia e se l'è comprata e siamo stati sconfitti tutti insieme ognuno tenendo alto la bandiera del suo interesse nazionale che in una competizione mondiale non vale assolutamente nulla questo è quello che succede meno Europa ma sì meno Europa poi sostiene il governo Draghi poi ho dovuto spiegare come aprire una bottiglietta ma voi vi rendete conto che il video sulla difesa europea che spiega come farla due minuti non 20 due ha avuto 40.000 50.000 visualizzazioni quello del tappino ha avuto tipo 20 milioni di visualizzazione ma ragazzi ma io ci metto troppo sforzo voi ci mettete troppo sforzo ma che stiamo a fare tutto sto casino e adesso mi arrampico qui sopra torso nudo pigliamo il 3% perché devo fare tutta sta roba perché abbiamo un ufficio studi perché abbiamo candidati che sanno stare in Europa che conoscono le amministrazioni locali che sono grandi esperti di quello che seguono perché dobbiamo avere la persona che è più più diciamo in Italia più committed a livello quasi della follia sul nucleare se poi alla fine tutto quello che conta è se uno fa lo spettacolo ma che ci importa tutto è ridotto a uno spettacolo capite e non è che siamo nell'89 o nel 92 siamo con due guerre alla porte dell'Europa chiaro? l'Europa si salva se diventa da un condominio litigioso una grande potenza e essere una grande potenza vuol dire che gli stati nazionali tutti devono fare un passo indietro e non parlo solo della Meloni o di Salvini quando Macron senza dire niente a nessuno dice mandiamo i soldati danneggiando la casa ucraina perché è chiaro che i cittadini si spaventano non vogliono più neanche mandargli le armi quando il giorno dopo tre giorni dopo manda il suo ambasciatore unico tra i paesi europei all'insediamento di Putin ma qual è il messaggio? Ma chi capisce qualcosa? La leggerezza di tutte le leadership in occidente stanno facendolo crollare che vogliamo fare ma non lo so io confido sul fatto che a un certo punto diventeremo di moda forse non lo so prima ho incontrato una persona che dice lei è molto serio guardi ho provato Meloni Salvini e Cinque Stelle mi sa al prossimo giro voto lei ma pure Casa Pound cioè ma famolo strano mettiamoci tutto dentro non è così c'è un risveglio civile di questo paese che va sostenuto considerando le persone cittadini non popolo cittadini che comprendono che hanno voglia di capire eh sì avete il problema esistenziale della destra e della sinistra eh lo so lo dovete risolvere perché? perché qui abbiamo tre ministri del governo Draghi una viene da sinistra due vengono dal centro-destra oggi non c'è Maria Stella hanno lavorato bene insieme perfettamente perché? perché c'era dietro quello spirito repubblicano che univa il paese e allora noi tutti i giorni stiamo là e dove ti collochi e dove stai e dove dici sto con la costituzione della repubblica italiana sto con l'antifascismo sto con l'europeismo sto con l'atlantismo e poi basta e spiego cosa voglio fare perché non è possibile che nessuno spieghi niente a tal punto che se la campagna elettorale dura per altri tre giorni la Meloni ha risolto problemi di immigrazione oggi ha fatto la social card ieri ha fatto l'istattesa oh non c'è un euro eh alla fine abbiamo conquistato Marte se dura un altro mese la Meloni dice entro la fine del secolo andremo sulla Marte ve lo dico io perché? perché è un rilancio continuo allora fermi un grande respiro di consapevolezza gli italiani non vogliono votare questa cosa qui gli hanno offerto solo questa cosa qui e il compito che noi ci siamo dati è al tempo stesso grande difficile storico ed è riconciliarli con il loro passato qui dentro ci sono i simboli che hanno fatto grande l'Italia io sono onorato che con noi ci sia il partito repubblicano italiano il partito liberale italiano il partito popolare italiano i socialisti liberali perché? perché hanno fatto l'Italia all'Europa signori e vi garantisco che il loro pensiero era un pochino più complesso del spingi il rosso spingi il nero spingi il nero spingi il rosso è lunga molto lunga è faticosa immensamente faticosa ognuno di voi avrà la tentazione di ricadere nello schema che ha fatto fallire questo paese sì sarà così perché? perché le cose grandi hanno un rischio di fallimento enorme se no non sono grandi c'è senso nella politica a fare la politica senza voler fare cose grandi senza avere il senso della storia non c'è nessun senso per nessuno e sapete che c'è i giovani lo sanno la ragione per cui azione è uno dei partiti dove ci sono più giovani che fanno attività è perché loro lo sentono e sono liberi 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 di pensare cosa serve all'Italia senza doversi mettere qui un'etichetta sanno che il loro destino è l'Europa lo sentono che il loro destino è l'Europa allora io chiedo a loro a tutti voi nei due giorni nel giorno che rimane la fatica di spiegarlo avendo un'idea dentro che vi deve rendere forti arriveremo e non al 4% arriveremo al governo del paese perché l'Italia chiede questo arriveremo se terremo lo sguardo alto se terremo l'etica dei comportamenti se saremo in grado di superare questa faziosità che distrugge tutto arriveremo il problema non è se arriveremo o no il problema è arrivarci integri nel cuore nello spirito nella testa arrivarci integri perché senti che quello che fai vale perché senti che quello che fai è un pezzettino di storia piccolo a piacere perché questa è l'unica motivazione che può spingere qualcuno a fare politica al giorno d'oggi è l'unica che spinge me allora vedete io sento questo siamo nell'ora più buia delle democrazie sì lo siamo lo siamo ma è nell'ora più buia che nascono le leadership che fanno la storia e queste leadership sono in questo partito dovunque e valgono il quadruplo di ogni persona che negli ultimi 30 anni ha gestito questo paese perché? perché hanno il coraggio di andare per l'alto mare aperto e questo noi faremo domani dopo domani il 10 il 15 e via così e via così e se siete dentro se avete dentro questo spirito se sentite la pressione della storia di quello che arriva di quello che viene del retaggio di questo grande paese che non è le buffonate che vedete tutti i giorni perché ha fatto la cultura occidentale l'ha costruita la rivendica insegna è inammissibile che ai ragazzi al primo voto non sia stato insegnato come si vota è ributtante è la prima cosa che bisognerebbe insegnare prima del lavoro a essere cittadini perché essere cittadini viene prima di ogni altra considerazione sai che c'è? noi siamo questo non esiste qualcuno che fa le cose giuste rette e fatte bene che alla fine non abbia successo conta solo quanto sei disponibile a faticare a lavorare io per me è la vita ed è la vita perché ogni iniziativa che ho fatto dal portare i ragazzi straordinari in macchina e ovviamente Aldo Grasso sul Corriere della Sera l'ha deriso perché perché tanto la politica è tutta un magna magna e i primi a deridere la politica sapete chi sono tutti i giornalisti italiani che la mattina la criticano e il pomeriggio dicono che tanto sono tutti uguali io ho conosciuto ragazzi straordinari ho fatto campagna con persone che sono affamate di conoscere l'Europa ho presentato in ogni singola tappa di questa campagna le tracce della straordinaria cultura che si rispecchia nell'Europa e l'ha formata questa è l'Italia ed è grande ed è grande perché non perché batte i pugni sul tavolo è grande perché quando si siede in Europa e io lo spero ha la faccia di un grande italiano come Mario Draghi che i pugni non li ha mai dovuti battere e sapete perché non li ha mai dovuti battere? perché è autorevole Giorgia Meloni e chi è autorevole può inarcare il sopracciglio non ha bisogno di battere niente né di dare dello stronzo a nessuno e quando imparerai la differenza sarà troppo tardi quando imparerai la differenza avrai perso perché quella che ti tiene su è un consenso fragile non è profondo non è serio non è forte e noi vogliamo un'Italia forte in un'Europa unita avanti